Buonasera, benvenuti a tempi supplementari, questa copertina rappresenta un po' un passaggio di testimoni tra due atleti, l'abbiamo vista prima Valentina Vezzali e poi Lisa Di Francisca, neocampionessa del mondo di fretto femminile a questi mondiali di scherma che si sono appena svolti a Parigi, allora diamo il benvenuto proprio alla neocampionessa Lisa Di Francisca, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Allora parleremo di questa vittoria, parleremo ovviamente della scherma italiana, di cosa avete in comune tu Valentina Vezzali e altre campionesse che stanno rendendo grande l'Italia nel mondo, lo faremo con la nostra ospite qui in studio appunto la nuova campionessa Lisa Di Francisca, ma abbiamo in collegamento anche Andrea Cipressa da Parigi che è il vicepresidente della federazione Italia Scherma, a cui do il benvenuto, buonasera. Buonasera, buonasera, grazie. Grazie, ben arrivati, Giovanna Trillini in collegamento invece dalla sede Rai di Ancona, benvenuta Giovanna. Ciao a tutti, buonasera. Allora, partiamo dalla neocampionessa, dalla neocampionessa mondiale Lisa Di Francisca. Elisa, come si sta con queste due medaglie al collo perché hai vinto sia la gara individuale che poi la gara squadra con le tue compagne? Così è stato. Così è stato, andiamo a rivedere proprio quei momenti, Elisa, allora in questa, vediamo gli ultimi assarti, la telecronaca di Federico Calcagno. Elisa, vorrei farti rivedere una cosa, abbiamo una piccola sorpresa per te, noi tempo fa ti abbiamo intervistato, questo fu dopo un altro mondiale, il mondiale in cui tu battesti Valentina Vezzali, il mondiale in cui tu arrivassi terza appunto, parliamo del mondiale l'ultimo, quello in Turchia. E lui e tu, insomma, ci hai detto una cosa che ci ha un po' incurocito, poi voglio farti una domanda, vediamo allora questo servizio. Invece vorrei tornare su una cosa che avete in comune, tu e tutte le persone che hai citato in questo spezzone di intervista che abbiamo ribandato. Siete tutti Iesini, tu, Giovanna, Valentina Vezzali, Cerioni, peraltro che è l'allenatore tecnico del Fioretto. Allora, chiedo ad Andrea Cipressa in collegamento, ma perché Iesi? Cosa ha di speciale questa città a livello di scherma? Servizio era di Federico Calcagno, Elisa, come si vive in qualche modo all'ombra di un personaggio così, tra virgolette, ingombrante, perché in effetti ha vinto tanto come Valentina Vezzali? O possiamo già parlare, peraltro la seconda domanda, di un cambio di testimonio, come dicevamo all'inizio della nostra copertina, sono due domande in realtà. Vedremo quali altre sorprese ci risolverai, incrociamo ovviamente tutti quanti le dita, grazie a Elisa Di Francisca per essere stata con noi, grazie a Giovanna Trellini che abbiamo avuto in collegamento da Ancona nella prima parte di questa trasmissione, grazie ad Andrea Cipressa in collegamento da Parigi e noi ci fermiamo più, abbiamo parlato di scherma in questa puntata di tempi supplementari, grazie per averci seguito e a tutti il nostro più cordiale, arrivederci. Grazie a tutti.